Agamennone aveva allontanato Achille, arraffandogli addirittura Briseide, bellissimo bottino. Bionda? Bruna? Boh! Credeva che compensasse Criseide, ceduta contro Roglia, dovendosi districare dal disappunto del Dio dei Dardi. Era, ed è, estremamente eccitabile. Esige Elena ed esclama Fratellino, furono fessacchiotti fregandotela. Finiranno fustigati, giaceranno giù, giustiziati. Gioiremo, giacché giova guerreggiare. Ha hubris, ha humor, ha hobby hard. Infatti, infilza innumerevoli individui inebriandosi. Intanto, la ladreria lentamente lo lacera. Largheggiano liti, lutti, lamentele. Mentre Menelao mormora Mi manca moltissimo, mia moglie. Nestore, nonnetto nobile, nonché novantenne, notifica Occorre ostentare onestà ogni ora, oppure otterremo odio. Perito, patroclo, poseidone, prega. Pelide, palladino potente, quantomeno quasi quanto, quattrocento quadrupe di qualunque. Ritorna, riceverai regali ragguardevoli, ragazzo rapidissimo. Supplica sentita, sembrerebbe. Subito si susseguono svariate stragi. Tanti troiani trapassano. Tuttavia, tutto termina, temporaneamente. Un uomo unico, ucciso, umiliato, unisce umori variegati. Vietato vincere vergognosamente. Vegliate! Verbalizza Zeus, zuccherando zuffe. Zero zizzania. Zittitevi, zotici zucconi.